Lo sportello del cittadino si trova a Marina di Leporano, provincia di Taranto, presso la splendida struttura del Cocos Bar, targato Fenice, Baila Fenice. Una realtà davvero bella, una realtà che offre intrattenimento, soprattutto serale, attraverso servizio bar, attraverso servizio stuzzicheria con piatti davvero succulenti, ma soprattutto è un'occasione, uno strumento che permette di stare insieme, di trascorrere delle belle ore all'insegna della buona tavola e all'insegna del divertimento. Con tante iniziative che si succedono nel corso della settimana, dalle iniziative, da attività per i più piccoli, per i bambini, al karaoke, alle serate a tema, alle serate musicali a tema, con le cover. Insomma, un'occasione davvero per goderci l'estate, una realtà che fa crescere il territorio anche dal punto di vista economico, commerciale, perché una realtà si fatta, produce, fa crescere l'economia, fa circolare la moneta. Questo significa fare economia, creare occupazione, dar da vivere a tante persone e quindi dobbiamo apprezzare certamente gli sforzi di questa realtà imprenditoriale. Ma ci sono evidentemente dei bastian contrari, c'è evidentemente più di qualcuno che mentalmente, lo devo dire con amarezza, è molto ma molto arretrato, è molto ma molto retrivo, perché c'è qualcuno, anche qualcuno ex politico, chiamiamolo così, che non gradisce che nelle ore serali la musica si senta, il volume della musica si senta presso la propria abitazione, presso la propria villa. Intanto non stiamo parlando di ritmi musicali da discoteca, ma parliamo di decibel, passatemi questa espressione non perfettamente tecnica, decibel che rientrano, diciamo così, in un tono soft, in un tono molto misurato, a livello di piano bar per intenderci. Non stiamo certo parlando di quella musica, magari metallara, pesante, che ti bombarda il cervello, della buona musica, i pezzi così estivi, tormentoni estivi, ma un qualcosa di estremamente soft. E questi si lamentano che anche nelle ore precedenti, la mezzanotte, questi suoni arrivino nelle loro case, nelle loro ville e disturbino i loro condotti, i loro padiglioni auricolari. Motivo per il quale la struttura imprenditoriale che gestisce il COCOS si è vista costretta, non potendo appunto svolgere appieno queste attività, a licenziare sette persone. Vedete la retratezza mentale che danno produce? Vedete cosa avete fatto in questo modo? Avete privato la cittadinanza di Taranto del divertimento, visto che a Taranto città non c'è nulla, la gente si sposta sulla litoranea e viene in questa o in altre strutture. Non si deve fare musica perché i signorini sono molto sensibili, con una musica, ripeto, soft e quindi in questo modo si priva la gente del divertimento, ma soprattutto si fa sì che una realtà imprenditoriale abbia le ali tarpate, abbia le braccia e le gambe spezzate. Questa è arretratezza mentale, questo è medioevo, questo significa essere davvero, lo ripeto, lo sottolineo, arretrati di almeno cento anni. Voi pensate le realtà di Gallipoli, pensate alle realtà del Salento, lì la vita inizia a mezzanotte, l'una le due. Non voglio dire questo, ma almeno fino a mezzanotte, consentite, viva Dio, che un po' di buona musica si possa fare qui e vi assicuro, se voi avete problemi di udito, se avete problemi per cui anche un minimo suono vi disturba, ci sono i conventi in cui rinchiudersi, ci sono realtà come Assisi, ci sono i monasteri, ci sono i luoghi di clausura, ecco lì stareste bene, ma oltre a stare bene voi, soprattutto fareste stare bene il resto della collettività ionica, collettività ionica che vuole distrarsi, che vuole vivere e che vuole fare anche economia, vuole far circolare, far vivere la nostra economia e far circolare, come si suol dire, la moneta. Pensate, il vostro essere ottusi dal punto di vista mentale ha mandato a spasso, ha mandato col sedere per terra, passatemi l'espressione, ben sette persone. Sette persone significa anche sette famiglie. Vergognatevi, vergognatevi. Noi difenderemo con le unghie e con i denti il Cocos Bar Baila Fenice, una struttura che crea intrattenimento, che fa crescere il territorio e che soprattutto dà vita a stipendi, produce economia. Sette persone, lo ripeto, a fine mese non percepiranno lo stipendio. Ringraziate questa gente ottusa, ringraziatela.